Squat con focus glutei. Dobbiamo fare uno squat afferrando la nostra kettlebell, però non il classico squat dove scendo in questa posizione, ma avremo il busto leggermente inclinato in avanti, quindi tengo bene l'addome, inclino il busto, piedi larghezza del vostro squat normale, quindi punte anche leggermente verso l'esterno, le ginocchia seguono le vostre punte, e devo andare, ok vado giù giù pensando di spingere bene il sedere verso il basso, non devo rompere la parallela qui, quindi rimango un pochino più su rispetto al nostro squat dove si scende, sento benissimo l'attivazione dei glutei, dopodiché risalgo ma non completamente, quindi le mie gambe rimangono sempre leggermente flesse, sempre leggermente piegate. Adesso lo faccio vedere con la kettlebell, quindi da qua me la posiziono, quindi scendo come per fare squat, porto il sedere dietro, allargo bene le ginocchia, sparo fuori, porto il sedere dietro, attivo bene i gluti, poi spingo fortissimo con i piedi, non estendo le gambe. Sparo fuori le ginocchia dietro i gluti, spingi, spingi, spingi dietro, mi fermo a un certo punto e su, lo faccio un pochino continuo e qui mi raccomando, la cosa fondamentale è spingere benissimo con i piedi per tornare su e qui. La cosa fondamentale è che trovi il punto in cui senti maggiormente lavorare i glutei, che non è detto che sia la mia stessa medesima posizione, perché ovviamente abbiamo leve diverse, una corporatura diversa. Quindi lo scopo è quello di sentire i glutei, per cui vado dietro come per fare uno squat, con la differenza che non sto dritta con il busto, lo inclino leggermente in avanti, penso di andare più dietro possibile con i miei glutei, quando li sento li attivo, li tengo lì un attimino e poi sollevo, ma non completamente.